Oggi ho piacere di parlarvi di una cosa speciale. Nel mese di marzo del prossimo anno, 115 atleti Special Olympics rappresenteranno il nostro paese ai giochi mondiali ad Abu Dhabi. Ovviamente io farò il tifo per ognuno di loro, magari con un occhio particolare alla scuola di calcio. Sono sicuro che i ragazzi faranno un'esperienza di crescita enorme e sarà entusiasmante seguire le loro gesta, perché come sempre riusciranno ad emozionarci. Per chi volesse fattivamente contribuire alla raccolta fondi per la loro trasferta, qui può trovare il link con tutte le informazioni. Ora non ci resta che fare il tifo per tutti i nostri atleti Special Olympics. Ciao!